E' chiaramente un allarme, è vero? Può darsi. Potrebbe aver condotto quegli alieni fino a Gax, se è lui che cercavano. Non capisco cosa stiamo aggiustando. A parte qualche bip ogni tanto, potermi trasformare da un alieno all'altro è stupendo. E poi adesso ho un potentissimo eroe bonus. Bene, io credo che la questione sia un tantino più complicata. Ma ne verremo a capo, insieme. Phil, che cos'è quest'affare? E' un dispositivo in grado di monitorare le alterazioni di energia delle tue forme aliene. Ah, ora basta! Questo è il mio orologio! Sono i miei alieni! Se avesse qualche problema, lo saprei! E vi dico di nuovo che non ne ha! Vado a mettere alla prova i miei poteri. Senza di voi. Ben! No, credo che per il momento sia meglio che usi l'orologio il più possibile. Ci darà più dati su cui lavorare. D'accordo, Gax! Super forza! Super salto! Alla grande! Prende la mira! E c'entra il bersaglio! E cosa c'è di meglio che arrostire un albero? Arrostire ben tre alberi! Oh, sì! È proprio assurdo che quel Phil volesse aggiustare le cose. Casomai le ha soltanto peggiorate. Io vorrei concentrarmi su Gax! Se solo potessi togliere questo affare dal mio orologio! Ah, questa operazione richiede strumenti speciali. Avanti, amico! Voglio fare pratica con Gax! Gax! Cosa? Guarda che mi hai fatto parte! Ok, almeno ora posso allontanarmi dal... Fuoco! Che situazione sgradevole! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Non mi sento tanto! Bene! Oh, no! No, 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 no! Oh, ora sì che si ragiona! Vai! Oh, cavoli! Calma, Ben! Puoi farcela? Non esiste disastro che non puoi... Oh, no! Visto? E non ho mostrato neanche un dito! Così l'incendio è stato domato! No, non iniziare anche tu! I valori sono fuori scala! Lascia stare i valori, Phil! Bene, è andato da quella parte! Dobbiamo trovarlo! L'aspettate! C'è qualcosa di strano! I dati nell'orologio che causano le trasformazioni in parte sembrano frammentati! Incompleti! Come se ne mancasse metà! Non credo più che quel suono sia un allarme! Penso che sia un segnalatore! Wow! C'è un altro alieno! Cosa? È meglio non correre rischi! No! Per un pelo! Per oggi non ho avuto abbastanza con questi incendi! Ma non pensare che mi sia scordato... Il gemello avvizzito di Gax! E così ti sei chiamato Gax, eh? Beh, allora tu puoi chiamarmi... Vil! Saluti, fratello Chimera! Chimera? In che senso, scusa? Che cos'è? La tua razza aliena? La stessa a cui appartiene Gax! Tu non hai la minima idea del potere che possiedi, vero? Oh, un'idea ce l'ho eccome! Guarda che roba! Gax! In questa forma eserciti certamente una grande forza fisica, ma ti manca il controllo! Adesso stai parlando come il nonno è Gwen! Eccone un altro che vuole dirmi come usare i miei alieni! Eccone! 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 Eccone!